Continua a tenere banco il tema della presenza degli ungulati in Toscana, è polemica dopo che la Regione ha annunciato di volerne in pratica dimezzare la presenza sul territorio da parte delle associazioni animaliste. La Regione Toscana vuole dimezzare la popolazione degli ungulati che conta almeno 500.000 esemplari tra cinghiali, daini, cervi, caprioli che stanno creando enormi difficoltà e danni sia in agricoltura che sul fronte dell'incolumità personale nelle campagne come nei centri abitati. A denunciarlo è l'assessore regionale all'agricoltura e foreste Marco Remaschi specificando che la proposta di legge arriverà in Consiglio regionale a settembre. Almeno 250.000 gli animali che dovranno essere abbattuti, secondo i dati ISPRA, la media nazionale è di 0,5 ungulati per ettaro. In Toscana sono 20 per ettaro, sottolinea l'assessore, una cifra 40 volte superiore alla media su cui bisogna agire quanto prima. Il compito di abbattere questo surplus sarà affidato al Corpo Forestale dello Stato ma anche alle associazioni dei cacciatori che collaborano alla bozza di legge, assieme anche a coldiretti e confagricoltori. La proposta ha però già ricevuto il no secco dell'EMPA. Non esiste alcune allarme cinghiali, dice l'Associazione Animalista. L'emergenza ungulati sulle strade è legata alla mancata applicazione di misure di sicurezza, uccidere gli animali a fucilate o con altri sistemi, come sembrano suggerire più o meno velatamente alcune associazioni di categoria, afferma ancora EMPA. Non è e non è mai stata una soluzione, al punto che lo stesso governo, con le sue risoluzioni, si è chiaramente espresso sull'inutilità degli abbattimenti. dice all'iniziativa regionale la Coldiretti con il suo presidente Tullio Marcelli, i cinghiali sono ormai un pericolo pubblico e non più solo per gli agricoltori che assistono impotenti ai danni alle coltivazioni per 20 milioni di euro l'anno, dice ora è a rischio anche la sicurezza dei cittadini.